Ciao a tutti, oggi vi mostro delle macchine semplici. Praticamente sono degli attrezzi che ci semplificano le cose della vita quotidiana. Adesso vi faccio vedere questa vite che le inserirò in quest'asse di legno. Adesso vi faccio vedere un altro attrezzo, l'ascia. Adesso vi faccio vedere una leva che ci servirà a fare meno sforzo. Per esempio, se dovremmo spaccare una noce con le mani, ci metteremo molte forze. Invece con questa leva metteremo meno forze. Adesso vi faccio vedere un'altra macchina semplice, una ruota che può girare fino a 360 gradi. Questo è un ricello che ha una leva che serve per far salire e scendere i pesi fino a 500 kg. In questo momento non vi posso far vedere come funziona perché è chiuso. Adesso vi faccio vedere un'altra macchina semplice che si ingallarga. Adesso vi faccio vedere un piano inclinato, fatto con quest'asse. Sopra quest'asse c'è una persona, in questo caso un peluche. E' un oggetto da portare in salita, facendo meno sforzi. E' un ugetto da portare in salita, facendo meno sforzi.